Beggia Marti di Rumundi, cala storia tonnicundi, ti pregamo allegamenti, pulcori e colamenti, dona le grazie a tutti quanti, cala Pumisoni ti faranno leggenti, ti ringraziamo vivamente, casilla Beggia Marti di Rumundi. Questa è una delle esibizioni di ieri sera. Giuseppe è un bambino di Racalmuto che ha letto la poesia dedicata alla Madonna del Monte. A Racalmuto è quindi ancora festa in onore di Maria Santissima del Monte con le iniziative collaterali patrocinate dal Comune in collaborazione con le associazioni locali. Ieri in piazza Francesco Crispi è andato in scena con lo sfondo dei video antichi della festa Kermes, spettacolo di teatro, musche e danza organizzato dal Centro Studi Regalpetra. Il numeroso pubblico ha assistito alle performance del coro filarmonico Terzo Millennio di Racalmuto diretto dal maestro Domenico Mannelli. Diverse le coreografie della scuola di danza Densin di Rosetta Carrara e tanti gli artisti racalmutesi che hanno fatto vedere il proprio talento. A fine serata l'amministrazione di Racalmuto guidata dal sindaco Emilio Messana ha donato ai partecipanti una targa ricordo in segno di riconoscimento a chi ha preso parte alla realizzazione della manifestazione. Ci sono tanti talenti a Racalmuto e la nostra preoccupazione, la nostra ansia è quella di consentire a tutti di poter mostrarsi e soprattutto di poter costruire un progetto per il loro futuro. Ecco, penso che oggi stiamo dando il buon esempio. E questa sera a partire dalle ore 21 sempre sul palco di Piazza Crispe Full Immersion in Music con i ragazzi di Arte Canto diretti da Cecilia Capitano e con gesto di Don Cash.